La sua presenza e i cartelli piazzati in contrada alle piane non passano di certo inosservati. Ogni mattina Michele Lombardi, carabiniere in pensione, originario di Rocca Sicura, ma residente a Esernia, presidia la sua proprietà per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su un presunto caso di mala giustizia. Per il passaggio a suo dire abusivo di alcuni cavi della corrente nel suo terreno, ha presentato alcune denunce alle autorità competenti, ma non avrebbe ricevuto alcuna risposta, nonostante abbia chiesto di essere avvisato anche in caso di archiviazione. Io parlo di mala giustizia perché c'era stata una ditta privata che ha attraversato il mio terreno abusivamente. Accortomi dell'invasione e qui c'è un progetto approvato per un campo di calcetto, servizi e tutto. Logicamente adesso sono nell'impossibilità di realizzare il muro di cinto perché c'è questi cavi della corrente elettrica che attraversano il mio terreno. L'ho denunciato alla giustizia, alla magistratura, a Isernia e mi ho denunciato il 7 giugno 2012. Il 31 agosto 2012 alla magistratura chiedevo le indagini su questa situazione qua. Logicamente mi dovevano avvertire con l'articolo 408,2 che non l'hanno fatto. Mi sono accorto il tempo che trascorreva, qualcosa non è funzionato e sono andato a indagare e ho scoperto che è stata archivata sia la prima che tutte e due le denunce presentate, sia la procura che i carabinieri. Logicamente io questa protesta la sto facendo perché non ho avuto le possibilità di difendermi. Questo è il problema che io sto portando avanti a conoscenza. Che cosa serve a fare le denunce quando una certa magistratura non difende i diritti dei cittadini? La protesta di Lombardi non finisce qui, ha infatti in mente una singolare marcia su Roma. Agli inizi di settembre partirà per la capitale insieme alla sua cavalla furia per andare a protestare a Montecitorio. Appena possibile ci vado con la cavalla mia in modo che qualcosa si deve muovere per forza perché io difendo una ragione e i diritti dei cittadini, tutto qua.